Era stato previsto, Cassandra avrebbe portato aria fredda di origine polare e anche neve nelle valli alpine. Previsioni corrette. E domenica mattina nel Piellese compare la bianca coltre sulle vette e sui versanti dei monti che circondano le vallate. Tra l'esplosione di tinte dell'autunno, la prima neve porta spettacoli inconsueti, soprattutto nei colori, con gli anomali contrasti di bianco sul verde, sul giallo e sul rosso del fogliame. I fiori sembrano stupiti ed infastiditi dalla fredda coperta che li ricopre. L'acqua gorgoglianta dei torrenti pare chiedersi se è tempo per lei di fermarsi e ghiacciare. Per quanto la temperatura sia scesa, però è piacevole immergersi in questo spettacolo incantato e magico e che spinge tutti a tornare fanciulli, sempre che la neve non intralci il traffico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.